La Polizia Locale di Mascali, unitamente ai carabinieri della locale stazione, con il supporto di funzionari dell'ASP3, continua i controlli serrati nei caseifici, laboratori e negozi alimentari del territorio mascalese, al fine di prevenire e impedire che vengono messi in commercio prodotti alimentari scaduti o comunque qualitivamente dannosi per la salute dei consumatori. L'operazione coordinata dall'Ispettore Capo della Polizia Amministrativa del Comune di Mascali, Santo Vassallo, si è sviluppata nello scorso fine settimana, interessando locali pubblici e laboratori. Al termine delle verifiche sono state combinate numerose sanzioni per un totale di 5.000 euro per inosservanza delle normative igienico-sanitarie, tenuta dei locali, qualità dei cibi e per la violazione dell'articolo 515 del Codice Penale, relativo alla froda nell'esercizio del commercio, che prevede la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2065. Questa nuova operazione, che vede la collaudata e proficua sinergia tra Polizia Municipale Mascalese, Carabinieri e Tecnici dell'ASP, ha spiegato Santo Vassallo, Ispettore Capo della Polizia, amministrativa del Comune di Mascali non è la prima in ordine di tempo. Altre ne sono state effettuate e ancora ne effettueremo, perché la vigilanza su questo problema rimane alta per tutta l'estate, al fine di garantire la salute dei cittadini e dei turisti. Compiacimento per l'ottima sinergia tra Carabinieri, Polizia Municipale e ASP è stata espressa dal primo cittadino mascalese Luigi Messina. Noi come amministrazione condividiamo l'azione greggia compiuta dai Carabinieri e dai nostri vigili urbani attraverso soprattutto il Marasciallo Vassallo e l'ASL, che in sinergia stanno lavorando con molta attenzione al territorio per dire due cose importanti. Una, quella che magari c'è qualche locale che va controllato perché magari agisce fuori un pochino dalle regole e che va ad essere invitato per lavorare meglio e con più attenzione per garantire tutti coloro che vengono nel nostro territorio e anche per evidenziare, evidenziano che molti locali agiscono nel modo corretto, agiscono bene con tutte le regole e che sono quel risultato positivo che il nostro territorio aspetta nel momento in cui offre dei servizi e dobbiamo garantire tutti coloro che vengono a soggiornare nel territorio, innanzitutto i nostri cittadini, ma soprattutto anche quello che è l'economia principale del nostro territorio e che sono i turisti e che devono sapere che di essere in un territorio garantito devono avere i migliori prodotti e devono avere dei servizi gestiti nel modo corretto e per legge.